Musica Buonasera e ben ritrovati puntualissimi con il nostro telegiornale ma partiamo dai titoli Tre città calabresi guidano la classifica italiana delle domande accolte per il reddito di cittadinanza a 11 comuni della regione presenti su 25 Dopo la caduta del governo quale futuro avrà la legge speciale per la Calabria? Intanto Rapani denuncia 18 ore di lavoro consecutive in pronto soccorso nell'ospedale di Rossano Magorno tenta l'aggancio con il Movimento 5 Stelle per le regionali ma Laura Ferrara lo stoppa, noi siamo diversi E' morto dopo un mese d'agonia il 47enne coinvolto in un incidente a Simeri Cricchi, un cinghiale gli aveva tagliato la strada Il 23enne è stato accoltellato al termine di una lite all'alba scalea, il giovane portato all'annunziata è grave ma non in pericolo di vita Al via a Montalto il festival Leon Cavallo questa mattina la conferenza stampa per la presentazione del cartellone Archiviato il derby il Cosenza guarda al mercato mentre il crotone si gode Maxi Lopez In serie C vince il Catanzaro pareggia la regina sconfitte Vibonese e Rende Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale Lo avete visto dai titoli in apertura Parliamo del reddito di cittadinanza perché sono tre città calabresi che guidano la classifica italiana Delle domande accolte proprio per il reddito di cittadinanza 11 sarebbero i comuni della regione presenti su 25 Reddito di cittadinanza tutto secondo previsioni a fare la parte del Leon e il Sud Nella classifica pubblicata dal messaggero i numeri rispecchiano la realtà italiana al nord Le domande accolte sono state il 7,8% al centro l'11,4% al sud il 26,3% La povertà insomma abita nelle regioni del mezzogiorno e in particolare in Calabria Infatti nella classifica nazionale dei comuni con più domande accolte per il reddito di cittadinanza Su 25 comuni italiani, 11 sono calabresi In testa troviamo un piccolo comune in provincia di Cosenza, Rotagreca Con 90 domande accolte per un totale di 1.095 abitanti Segue al secondo posto Centrache in provincia di Catanzaro 27 le domande accolte 385 gli abitanti Terza posizione per Cutro in provincia di Crotone 706 le domande accolte per 10.410 abitanti Quinto posto per Giffone nel Regino 118 le domande accolte per 1.781 abitanti Isola Caporizzuto nel Crotonese si piazza al settimo posto 1.163 le domande accolte e 17.848 gli abitanti Con un po' di distacco al dicesettesimo posto Castel Silano Ancora nel Crotonese con 53 domande accolte 962 gli abitanti Segue Marce D'Usa nel Catanzarese Al diciottesimo posto con 23 domande accolte 419 gli abitanti Cirò al ventesimo posto 147 le domande accolte 2.735 gli abitanti Ventunesimo posto per Altilia in provincia di Cosenza 37 le domande accolte 696 gli abitanti Gasperina in provincia di Catanzaro Si piazza al ventiduesimo posto 111 le domande accolte 2.120 gli abitanti Infine domani con il Cosentino Al venticinquesimo posto con 49 domande accolte Per 941 abitanti In Calabria a leggere i dati Non ci sono province con capacità di ricchezza maggiore Le difficoltà economiche delle famiglie coinvolgono l'intera regione Riuscirà questo strumento come negli intenti a innescare Un virtuoso processo di sviluppo Vedremo E parliamo adesso di sanità Perché dopo la caduta del governo Quale sarà il futuro Per la legge speciale Per la Calabria Il cosiddetto decreto Tutto tace sul fronte della sanità I problemi restano quelli di sempre E in alcune aree della regione Sono addirittura aumentati Ovunque si lamenta mancanza di programmazione Le aziende e gli ospedali Sono senza guida Ormai da troppo tempo E come se si aspettasse Godò Che però non arriva mai Il piglio con il quale il governo decaduto Aveva promesso di rimettere in cesto il settore Si è spento Così come si è spento l'ardore della ministra Venuta più volte in Calabria a spiegarci Che tutto sarebbe stato diverso Prima il decreto Poi la legge E infine il silenzio Con il commissario Cotticelli Lasciato da solo a gestire l'impossibile Adesso che il governo non c'è più Che fine farà la legge speciale per la Calabria? Chi nominerà i nuovi commissari? E i professionisti già nominati Vale a dire appena tre Prenderanno in mano le redini Delle strutture a loro destinate? Silenzio Tanto Troppo silenzio Che significa tanto E non significa niente Al rientro dalle ferie I calabressi si ritroveranno a fare i conti Con i problemi di sempre Da Locri a Catanzaro Dalla Mezzia a Crotone Da Cosenza a Praia a Mare Passando per Paola e Cetraro Nulla insomma è cambiato Nonostante la buona volontà E le promesse Già le promesse Sempre uguali Cambia il colore di chi le fa Ma nella sostanza Si traducono sempre in illusioni E intanto i cittadini Continuano a emigrare E a far ricca la sanità Di altre aree del paese E un'ingiustizia Per la gente di questa terra Che sborsa soldini Per una sanità migliore Che in tanti promettono Ma che nei fatti non c'è E a proposito di sanità Fratelli d'Italia Chiede al sindaco Stasi E al sindaco della città Di Corigliano Rossano E ai parlamentari pentastellati Del territorio Di intervenire Perché il pronto soccorso Di Rossano È allo sbando Parla di sanità in ginocchio Il coordinatore regionale Di Fratelli d'Italia Ernesto Rapani Che bacchetta anche La deputazione 5 Stelle La denuncia Riguarda il pronto soccorso Dell'ospedale di Rossano Intollerabili 18 ore di lavoro Consecutive in pronto soccorso Quanto sta accadendo È incredibile Scrive Rapani Ma soprattutto Intollerabile La notizia di alcuni medici Costretti a turni estenuanti E a 18 ore di lavoro In pronto soccorso Perché il turno successivo Non si è presentato Senza alcuna giustificazione Ha creato indignazione E ora che il sindaco E la deputazione parlamentare locale Intervengano Una volta per tutte Scrive ancora Rapani Che appellandosi Al primo cittadino Di Corigliano Rossano E ai 5 parlamentari Pentastellati del territorio Dice serve una ferma presa Di posizione Il portavoce regionale Del partito della Meloni Esorta quindi All'impegno Nel rispetto Del loro mandato Elettorale Prendano esempio Dal sindaco di Castrovillari Dice che ha convocato Un consiglio comunale aperto A Catanzaro Per protesta Il servizio sanitario È quanto di più importante Possa esserci E non ci sono colori Che tengano Quando bisogna lottare Per un diritto E a proposito di politica Magorno tenta All'aggancio Con il movimento Il segnale del rivederci Grazie ad Oliverio Plaude Mario Chiuto Per l'iniziativa E intanto E intanto il centrodestra Calabrese Unito Chiede il ritorno Alle urne Il prima possibile Perché i calabresi Vogliono libertà Di scelta Dopo anni Al voto quanto prima Comunque Non più tardi Della scadenza naturale Della legislatura E l'appello A margine Della conferenza Dei capi gruppo Conciliari regionali Dei presidenti Dei gruppi di centrodestra Che si sono riuniti Per fare il punto Della situazione politica Sollecitando Il ritorno Alle urne Gianluca Gallo Claudio Parente Fausto Orso Marso Affermano che a Roma Come a Catanzaro Si inseguono in ciucci Per quello che potrebbe essere Un mix micidiale Fatto della comprovata Incompetenza grillina E dei grandi fallimenti Del centro-sinistra E tutto questo Distraendo energie Che sarebbero meglio Impiegate Per governare la Calabria Alla quale La presidenza Oliverio Sta recando danni Incalcolabili Come dimostra Lo stato comatoso Della sanità Il dilagare del precariato L'arretratezza Infrastrutturale La cattiva gestione Sistema rifiuti E l'emorragia Di posti di lavoro Cambio di rotta È necessario E ci penseranno Presto i calabresi Premiando il centro-destra Unito Unica vera forza Alternativa Allo sfascio Il ritorno alle urne Prima possibile È il punto cardine Della richiesta Formalizzata Dai tre partiti Di centro-destra Per istituire I cittadini Il diritto Di decidere Del proprio avvenire Poi La stoccata Al governatore Per una volta Oliverio Dimostri senso Di responsabilità E metta fine Al balletto Delle date Strumentale Al tentativo Di acquisire Una sua ricandidatura Lasciamo la politica Parliamo di cronaca Torniamo al caso Di Sissi Trovatomazza Perché è previsto Un nuovo sit-in A Roma Il prossimo 30 di agosto Per chiedere Verità E giustizia Venerdì Si torna In piazza a Roma L'appuntamento Dinanzi la sede Del ministero Della giustizia Per il sit-in Di protesta Del sindacato Di polizia penitenziaria Che ha l'obiettivo Di non dimenticare Sissi Trovatomazza La gente Di polizia penitenziaria Originaria di Taurianova In servizio Presso il carcere Della Giudecca Misteriosamente ferita Tre anni fa Nell'ascensore Del carcere Di Venezia La ragazza 28 anni E morta Nel gennaio Di quest'anno Alla manifestazione Prenderà parte Anche la famiglia Di Sissi Una morte Senza colpevoli Una vergogna Afferma Aldo Di Giacomo Segretario generale Del sindacato Di polizia penitenziaria Che ha voluto Il sit-in All'iniziativa Ha aderito Anche il comitato Civico Sissi Che chiede sostegno Alle istituzioni Va ricordato Che sul caso Era stata chiesta L'archiviazione Dell'inchiesta Sul tentato omicidio Che era stata però Rigettata dal GIP Dopo l'opposizione Della famiglia Che ha chiesto E ottenuto Ulteriori indagini La mobilitazione Per non dimenticare E chiedere giustizia Sulla morte Della ragazza Adesso altre storie Altre notizie Nei nostri Cento secondi Di cronaca E' morto Al pugliese Ciaccio di Catanzaro Dopo un mese di agonia Il 47enne Coinvolto In un incidente stradale A Simeri Cricchi L'uomo Era a bordo Della sua moto Sulla provinciale Quando un cinghiale Gli ha tagliato la strada L'animale Si era poi avventato Sulla vittima Soccorso E trasportato In ospedale Era in stato di coma Nella nottata La notizia Del decesso Un 23enne E' stato accoltellato Questa mattina A Scalea Nel Cosentino Al culmine di una lite Il giovane Originario di Torino E' stato portato In ospedale A Cosenza Le sue condizioni Sono gravi Le indagini Dei carabinieri Coordinate Dalla procura Di Paola L'intervento Dell'elisoccorso Necessario All'arcomagno Di San Nicolarcella Sul tirreno Cosentino Dove un giovane Ha rischiato la vita Dopo un tuffo Molto pericoloso Il ragazzo Portato All'annunziata Non è in pericolo Di vita Ha tentato Il suicidio Nel carcere Dell'Aquila A salvare Il detenuto Di origini Calabresi Ristretto Il regime Di carcere Duro L'intervento Tempestivo Della polizia Veritenziaria Del personale Sanitario Della casa circondariale Paura Nella notte A Dinami Nel Vibonese Per un incendio In un deposito Di gomme Le fiamme Hanno minacciato Le abitazioni Solo L'intervento Tempestivo Dei vigili Del fuoco Ha evitato Il peggio Avviate Dai carabinieri Le indagini Non si esclude La matrice Dolosa Cambiamo argomento Parliamo di sport E prevenzione Perché Sono stati al centro Di un evento Che si è svolto A Rocca Imperiale Sullo Ionio Cosentino Dedicato alle donne Denominato Il trekking Rosa Nel cuore Dell'estate Rocca Imperiale Benessere Salute E sport Sono state Le parole Chiave Del primo evento Il trekking Urbano Si tinge di rosa La salute Lo sport La prevenzione E' uno di quegli argomenti Di cui in questa stagione Amministrativa Ci occuperemo in maniera Incissiva ed importante Iniziamo da qui E' solo una prima battuta Di tutto quello che avverrà Nei prossimi mesi Perché ci crediamo Ci crediamo profondamente Il sistema sanitario in genere Vive un momento di grande difficoltà E noi dalla periferia Con queste iniziative Vogliamo tenere alta La sticella E soprattutto l'importanza Su un argomento Di così grande sensibilità La manifestazione Promossa dall'amministrazione comunale In collaborazione Con l'associazione Federiciani Runners Allo scopo di sensibilizzare La popolazione Sull'importanza Della prevenzione Quest'anno abbiamo deciso Di inserire All'interno del nostro Cartellone estivo Degli eventi Che si concentrano Sul ruolo della donna E sui diritti delle donne E abbiamo deciso Di concentrare Questo 24 agosto Sulla prevenzione Del tumore al seno E quindi dedicandoci Ulteriormente Alla figura femminile Ma abbinando La prevenzione E quindi la cultura Della prevenzione A quella che è La cultura dello sport E dell'attività fisica Attraverso questo trekking urbano Che dal lungomaro Attraverso le vie Della marina Del centro storico Arriverà Al nostro castello Svevo Io lavoro in ospedale Quindi sono problemi Che vedo tutti i giorni E quindi ho pensato Di fare appunto Queste giornate Per dare un aiuto Ai cittadini Soprattutto A quelli che non hanno La possibilità Di spostarsi Perché molte persone Evitano di fare prevenzione Anche perché non hanno Possibilità di spostarsi La prevenzione è fondamentale Per evitare altri rischi Su quello che accade Ogni giorno Insomma L'evento sportivo E sociale Ha registrato Un'ampia partecipazione Di cittadini Per lo più donne E nella sola mattinata Sono state effettuate Circa 50 mammografie Al via invece a Montalto Il festival Leoncavallo Questa mattina C'è stata la conferenza Stampa Di presentazione Del cartellone Dell'evento Vediamo Quest'anno Ricorrono i cento anni Dalla scomparsa Del grande musicista Ruggero Leoncavallo E Montalto Fugo La città che ispirò Al grande musicista La sua opera più bella Pagliacci Celebra l'evento Con la diciannovesima edizione Del festival internazionale A lui dedicato Abbiamo cercato Di mettere in campo Una manifestazione Abbastanza articolata Con nomi importanti Per dare maggiore risalto A questo evento Stiamo cominciando A concretizzare Quello che era La mia idea originaria Cioè quella di fare In modo che il concorso Non esaurisse La sua espressione Durante l'estate Ma che avesse Poi una continuità Durante l'anno E con il maestro Arlie Che è il nostro direttore artistico Abbiamo concordato Appunto di dare spazio Anche nel corso dell'autunno Ai rapporti E alle collaborazioni Con le scuole E per poi far culminare Tutto nel periodo natalizio Con il concorso lirico Quest'anno proprio In occasione Dei cento anni Dalla sua scomparsa Il festival Sarà ancora di più Caratterizzato Dall'omaggio Al grande compositore Nell'anno del centenario Vogliamo ricordare Il compositore Non soltanto Nel mese di agosto Ma durante tutto l'anno Ci sarà una presentazione Di un disco Warner Classics Dedicato ai pagliacci Con il patrocinio Del festival Di Montalto Fugo A Milano Fornirà il festival Alla copertina del disco E ci sono tante altre Belle iniziative Perché il compositore Napoletano È conosciuto In tutto il mondo E il festival Della lirica Di Montalto È seguito da tutti Il primo appuntamento Sarà il 28 agosto Alle ore 21 Sulla piazza del Duomo Di Montalto Fugo Sarà un galà lirico Bellissimo Dedicato principalmente A musiche di Leon Cavallo Con delle voci Straordinarie Daniela Schillaci Marina Comparato E Filippo Adami Che faranno lirica E sarà una piccola festa Insieme Per riniziare Questa avventura Ed è ormai Una tradizione La serata Che Roseto Capospulico Dedica ogni estate Alle serenate A Federico II Cultura e insieme Anche spettacolo A Roseto Capospulico L'estate Iniziate il 21 maggio Ha raggiunto Il suo culmine Con la serata evento Per la 14esima edizione Di serenate A Federico II Nella spettacolare cornice Della spiaggia Sottostante il castello La serenate a Federico È uno dei fiori All'occhiello Dell'estate Che si svolge A Roseto Capospuli Con calendario Ricchissimo Di eventi Quest'anno Eventi che hanno Avuto il pregio Di andare incontro Alle esigenze Di tutti Dai più piccoli Alle persone Diversamente giovani Come ci piace Chiamarle Ai giovani Che hanno avuto Molti spazi Passando Dalla musica Al teatro Ai grandi nomi Ma anche A tutti gli artisti Che si sono Distinti Per la qualità Che hanno portato A Roseto Come ogni anno Ad aprire la serata È stata una rappresentazione A firma del professor Rocco Franco Che ha esplorato Un altro degli aspetti E dell'epoca In cui lo stupor mundi È vissuto Quest'anno È stato preso in esame Un argomento Di grande attualità Le fake news Ai tempi Di Federico II Di Svevia E l'aspetto Delle fake news Anche del medioevo Facendo il paragone E le dinamiche Del comportamento umano E la riconferma Di quello che succede oggi Ieri come oggi Oggi come ieri Per il potere Si inventano Personaggi Storie Bugie Sulle spalle Dell'avversario Che si vuole eliminare Dopo la suggestione Del racconto È arrivata la magia Della grande musica Con il talentuoso pianista Raffael Gualazzi E il suo Jets Pop Adesso si chiama Civita Nova E animerà il centro storico Di Castrovillari Un'altra iniziativa importante Torna dal 29 agosto Al primo settembre Civita Nova La manifestazione Che coniuga Nel rione Civita Di Castrovillari Il salotto buono Della città Cuore dell'antica Residenzialità Ai piedi del Pollino Il patrimonio storico Con quello antropologico Quelli che caratterizzano La sua vita culturale Sociale ed economica Per noi Civita Nova Significa valorizzare Tutto il centro storico Ma valorizzare Soprattutto Tant'è vero Che il nostro progetto È candidato Al bando regionale Quello per la valorizzazione Dei beni culturali Io ho invitato Proprio l'assessore regionale Il 31 Proprio per parlare Di come Dell'incidenza Che questi bandi Stanno avendo Sullo sviluppo Della cultura E dei beni culturali All'interno della regione A partire dal manifesto Con lo scatto Sullo stupendo presepe Dell'artista locale Gianni Cherillo Con la grafica Di Claudio Regina E che vuole così Rappresentare Quello che è il cuore Del nostro centro storico Qual è la Civita Con questa rappresentazione Del presepe Con i costumi Tradizionali In uno dei luoghi Più importanti Del nostro centro storico Qual è la piazza Antistante Alla basilica Di San Giuliano Un lavoro congiunto Premiato dalla regione Con il ministero Per i beni culturali E l'Unione Europea Per una rivitalizzazione Dell'esistente A partire Dalle impronte storiche Che si perpetuano E l'augurio mio È che possa andare Sempre avanti Anche negli anni Successivi Nel modo che Io E tutti gli amici Della Proloco E l'amministrazione comunale Auspichiamo Parliamo di sport In particolare di calcio Perché ha archiviato Il derby Il Cosenza Guarda al mercato Mentre il Crotone Si gode Maxi Lopez In Serie C Invece Vince Il Catanzaro Pareggia alla regina Sconfitte Vibonese E rende Peccato che le immagini Non rendano giustizia Allo spettacolo del derby Certo ci sono le azioni salienti I volti dei protagonisti Ma si intravede soltanto Il colore dei tifosi Eppure Gli 11.000 Che hanno riempito Lo Scila Meritavano una menzione speciale E magari Qualche carrellate in più Se in campo Nonostante il gran caldo Si è vista una gara intensa E' stata anche per merito loro Il pareggio tra Crotone E Cosenza E' un risultato giusto E al di là delle recriminazioni Di parte Derivanti dalle evidente Migliori condizioni Per noi di casa E dalle clamorose occasioni Capitate dagli ospiti Rispecchia Quanto si è visto in campo L'abbraccio finale Tra stroppa e braglia E' l'immagine Che meglio sintetizza Un confronto Che i due allenatori Avevano letto in anticipo Basterebbe riavvolgere il nastro E ascoltare la presentazione Nella gara Per capire quanto il copione Non si sia discostato Dalle previsioni Soprattutto per merito Del tecnico toscano Bravo ad imbrigliare La verde e gli avversari E a far ripartire i suoi Nel modo più pericoloso possibile E se è vero Che una mano al Cosenza L'hanno data Gli infortuni di Molina e Spogli Che hanno privato stroppa Della possibilità Di modificare L'assetto e caratteristiche Della squadra Attraverso i cambi C'è anche da dire Che dopo l'uscita di scena Di Daniele Sciaudone Il Cosenza è stato costretto A giocare Limitandosi a contenere Un avversario Che sentiva il profumo Di una vittoria Servita su un piatto d'argento Ma rimasta soltanto Un desiderio Grazie alla compattezza Di una fase difensiva Quasi perfetta Così come vuole la tradizione Delle squadre Forgiate da Piero Braglia Nelle ultime stagioni Il derby servirà Al Crotone Per studiare nuove soluzioni E risultare Meno prevedibile Al Cosenza Per accrescere La propria autostima Dopo un precampionato Non proprio brillante E continuare il percorso Di ordinamento Tra vecchi protagonisti Già al top Per condizioni e affidabilità E nuovi innesti Quelli già in rosa E quelli che verranno In questi ultimi giorni di mercato Finale dedicato Ad Angelo Corsi Il capitano È tornato in campo In campionato dopo sei mesi Riprendendosi fascia E ruolo da leader E se non è una buona notizia questa Di sicuro È una squadra ostica Che Gioca ai limiti Del regolamento Che Ti chiude tutti gli spazi Ben messa in campo Diciamo che ci sono Stati tanti tempi morti Si poteva far giocare Un pochino di più E tirar fuori qualche cartellino In più Per il resto Bisogna fare i complimenti Al Cosenza Perché è venuto qui A fare la partita Che voleva fare Poi Con una squadra Come la mia Che cerca di E che ha creato Così tanto Devi vincere la partita Meno male che non l'abbiamo persa Perché è una partita del genere Rischi anche di perderla Bisogna essere contenti Di quello Che abbiamo visto L'atteggiamento è giusto Adesso si tratta Di migliorare Condizione rosa Bisogna tenere presente Anche il fatto Che fa caldo Dopo uno scatto Facciamo una fatica A recuperare L'interno Il ritiro Sarà stato fermo Due volte Sempre sei o sette giorni Perciò lavori Grandi lavori Poi alla fine Non ne ha fatti Carretta Ha fatto un miracolo A fare un'ora e un quarto Perché è stato operato Ha saltato Tutta la preparazione Pierini deve capire Dove è capitato Perché Pierini È un giocatore forte Però Deve calarsi Nella realtà nostra Noi Dobbiamo completare La rosa L'ha già detto Il presidente Guarascio Noi aspettiamo Fiduciosi Che questo avvenga La risposta Dei ragazzi È stata una risposta Importante Fin qui era la serie B Adesso andiamo a vedere Cosa è successo In Lega Pro Il Catanzaro mantiene Le promesse Parte bene in campionato Battendo un teramo Tutt'altro che Debole rinunciatario L'avvio è equilibrato E avviso aperto Celiento e Mungo Accendono il ceravolo La gara si sblocca Poco dopo il quarto d'ora Sul cross di Canutè Deviato da Celiento Tomei evita il gol Ma non può nulla Sutta Pindini Castro Che porta in vantaggio I giallorossi Il raddoppio Arriva sul rigore Riggio e Ilari Sono incollati E il difensore del Catanzaro Va giù Decisione contestata Marete del 2-0 A firma di Canutè Nella ripresa Martignago può riaprire il match Si procura un rigore Ma Di Gennaro E' abito a neutralizzarlo Il gol ospite Arriva allo stesso Ed è frutto di un'incomprensione Tra Celiento e Di Gennaro Che si ostacola la vicenda Nulla di grave I tre punti sono del Catanzaro La Virtus Francavilla Torna nel proprio impianto E frena la partenza Della regina Costretta al pari Nonostante una buona prova Soprattutto nella ripresa Vantaggio per noi di casa Sicilato da Vasquez Sul calcio di rigore Il pareggio di De Francesco Il suo tiro cross Da traiettoria incredibile Che inganna Costa Un gran gol di Fella Condanna alla sconfitta La Vibonese a Monopoli Conclusione della grande distanza Dell'attaccante Che supera Greco Nei minuti finali Di un confronto giocato Su buoni livelli Dalla squadra di Modica Arrazza di Vibo Prima uscita del Rende Contro il Bisceglie Partita non bellissima Decisa dalla rete di Gatto Sul fine del primo tempo Inutile la reazione Di Biancorossi Trascinati da Massimo Loviso Casadei dice di no a Libertazzi E porta in Puglia i tre punti Adesso vediamo le previsioni del tempo Proseguono condizioni di tempo estivo Con possibili manifestazioni instabili Sui rilievi principali della Calabria La goccia di aria fredda In quota Tende a traslare verso Levante Indebolendo gradualmente La fase temporalesca Pomeridiana Che sta colpendo la dorsale appenninica In questi ultimi giorni Domani c'è lo sereno al mattino Nel corso delle ore centrali Della giornata Modellato sviluppo di nuvolosità Comuniforme Meno incisivo Dei giorni precedenti A carico dei rilievi Con possibili rovesci Su Pollino Sila Serra Aspromonte Temperature stazionarie Analizziamo lo stato di mari e venti Domani venti deboli da maestrale sul tirreno Con mare quasi calmo Il settore settentrionale Poco mosso nei restanti settori Lo Ionio risulterà quasi calmo Il settore più settentrionale Poco mosso nei restanti settori Con ventilazioni orientali Per ulteriori approfondimenti Potete consultare il sito www.meteoincalabria.com E la pagina facebook Meteo in Calabria Anche per noi è tutto Io mi fermo qui Grazie per averci seguito E buon proseguimento con i nostri programmi Arrivederci